Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui al blog della Mela quest'oggi secondo contest dopo un anno e mezzo di attività del contest per assegnare a due di voi che parteciperanno il codice reddine per poter scaricare gratuitamente l'applicazione iTransformat che ho recensito nell'episodio 175 quello che dovrete fare per poter partecipare è prima di tutto essere iscritti al mio canale e se non lo sai ancora fallo subito cliccando qui sopra altrimenti dopo una volta fatto questo dovrai mettere qui sotto il video la spunta sul mi piace e lasciare un commento ad esempio che ne so partecipo comunque un commento valido per una sola persona perciò chi di voi pubblicherà lo stesso account pubblicherà più più commenti quella persona verrà contatta solo come una perciò un commento per una persona vi ricordo perciò alla fine contest dove metto in palio due codici reddine per poter scaricare l'applicazione iTransformat questo contest durerà fino a giovedì prossimo perciò oggi è il 5 giovedì 5 durerà fino al 12 maggio il 12 maggio troverete un video pubblicato con l'estrazione dei due vincitori dopo di che ci sentiremo via mail perché vi mandi il codice detto questo ragazzi in bocca al lupo a tutti quanti al prossimo video ciao